bravi, ciao alla prossima, ciao ciao amici ciao 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 buon pomeriggio signore cosa desiderare, Froyley? sono venuta a cambiare le lenzuola in Germania le lenzuola si cambiano solo al mattino da noi invece le cambiamo sempre ma cosa fa signorina? io sono qui in ritiro e domani ho un incontro importante per la mia squadra e poi se mi scopre il Kaiser sono cazzi miei io... vorresti dire che non ti piaccio? che non faresti l'amore con me? non voglio dire questo e solo che domani, quarti di finale questo ti farà soltanto bene dai, lasciati andare la prego signorina, domani troppo importante per me, ti vuoi essere in forma? no, no prego, Pompino, no, 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 un pochino no, ti prego oh no, 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 che ruamento Grazie a tutti